Che non si incontreranno mai, ma che dovranno cercare con coraggio nuovi passi per trovare la strada della cura di se stesse, figli e destini. Destini che si intrecceranno tra i due forze, non dall'altro. Come loro, altre donne, vissute in tempi e in uomini diversi, intrecciano i fili della cura tra la razione e vita. Mi chiamo Cristina, sono scrittrice e apicoltrice, la cura nel mio fare e nel mio scrivere è memoria di gesti e tradizioni. Nella natura, verso l'altro, attraverso l'uso delle mani. Il tempo della cura è per me il tempo della lentezza. Il tempo della natura, scandito dalle stagioni, mi accompagna nel mio lavoro di apicoltrice, nella mia vita con la famiglia, nella scrittura. I miei romanzi solitamente nascono scritti a mano, nelle prime ore del mattino, immerso nel mio giardino. I fili della vita che ognuno di noi crea in treggia, mi riportano alla lentezza del telaro, protagonista di uno dei miei romanzi, al suo canto e alla pazienza delle testitrici. Grazie.